Nuova S Sport, rivenditore all'ingrosso di articoli sportivi. Oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive, nella fornitura di abbigliamento, attrezzature ed accessori delle migliori marche. Studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali. Nuova S Sport, lo store per veri sportivi. Viagono in 56, Milano. Silvani Fragrances & Cosmetics Il marchio italiano della cosmetica di lusso Buonasera, gentili amici e telespettatori. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva. Un saluto da Marco Este e da Cristian Bravatà. Pensavo mi presentassi tu. Mi fai un po' sorpresa. No, siamo un po' tesi anche perché ci sono diversi scandali oggi. Purtroppo sì. Iniziamo dallo scandalo FIFA, dallo scandalo internazionale che ha colpito ancora una volta i vertici del calcio mondiale. Davvero un colpo basso. Questa volta tra gli indagati per il momento non risulta il nome di Josef Blatter, ma di persone comunque vicine a lui. Ricordiamo che questa mattina appunto la polizia svizzera ha arrestato 10 persone. Direi comunque di andare a scoprire e riassumere tutto quello che è successo nella mattinata di giovedì con l'aiuto del prossimo servizio. Altro ennesimo scandalo intorno al mondo della FIFA. Le autorità svizzera hanno dato il via giovedì mattina ad una nuova ondata di arresti nell'ambito della vasta indagine condotta dagli Stati Uniti sulla corruzione nel massimo organo internazionale del calcio. Secondo quanto riporta il New York Times, oltre 10 tra funzionari ed ex funzionari del calcio internazionale sono stati fermati dalla polizia elvetica. Tra di questi non risulterebbe Josef Blatter, come riferiscono funzionari di polizia. Le persone arrestate sarebbero accusate tra l'altro di racket, riciclaggio di denaro e frodi, hanno detto le autorità. Secondo fonti vicine all'inchiesta, i nuovi fermi sarebbero legati in particolare al calcio del Sud e Centro America. Alcuni degli arresti sarebbero avvenuti nello stesso hotel di lusso, dove altri funzionali della Federazione Internazionale di Calcio erano stati arrestati a maggio. Un vero e proprio scandalo destinato a non fermarsi. E da uno scandalo all'altro, perché è notizia di poche ore fa, veramente un altro scandalo antidoping, che riguarderebbe l'atletica italiana. 26 le richieste di squalifica per atleti azzurri, che rischiano a questo punto la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Buffera sull'atletica italiana. Sono in ballo 26 deferimenti di 26 atleti azzurri, con richiesta da parte della procura antidoping della Nado Italia di due anni di squalifica per l'uso controllo. I provvedimenti sono stati decisi in seguito agli sviluppi dell'indagine Olimpia, condotta dai Nasse e Ross dei Carabinieri di Trento, su mandato della procura di Bolzano, e agli accertamenti della stessa procura antidoping. Tra i nomi usciti ci sono tanti big, come Coglio, Lalli, Donato, Gibilisco, Greco e OU. Chiesta invece l'archiviazione per mancata reperibilità ai controlli per 39 dei 65 tesserati Fidal, che comparivano nell'indagine come Simona Alamantia e Antonietta Di Martino, oltre al marciatore Alex Svarzer. Ebbene Marco, da uno scandalo all'altro, purtroppo queste sono pagine tristi di cui non vorremmo mai dare notizia quando si parla di sport, di sport pulito, soprattutto quando si parla di atletica. Anche se l'Italia, devo dire, non è ai vertici dell'atletica mondiale. No. Prima è stata colpita la Russia, adesso l'Italia. È stata una giornata negativa, ma purtroppo abbiamo visto dal caso FIFA all'Atletica davvero piena di scandali. Il caso Atletica che era iniziato ieri sera che avrà i suoi sviluppi molto chiaramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Attenzione, adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di Serie A con l'anticipo tra Lazio e Juventus. Venerdì sera in capo queste due squadre che stanno vivendo momenti completamente opposti. La Juventus viaggia sulle ali dell'entusiasmo, quattro vittorie consecutive. La Lazio invece rischia, perché sta davvero passando un periodo negativo, rischia soprattutto Stefano Pioli. Direi di andare a vedere la presentazione del match nel prossimo contributo. Lazio contro Juve. Venerdì sera allo Stadio Olimpico sarà di scena una grande sfida tra due squadre che vivono momenti completamente opposti. Da una parte i bianco-celesti che in campionato non vincono da sei partite e non battono la Juventus in Serie A dal 6 dicembre 2003. Un'altra sconfitta potrebbe costar chiaro a Stefano Pioli. Dall'altra scenderà in campo una squadra galvanizzata dalle quattro vittorie consecutive e dalla possibile rimonta. I punti di distanza dalla vetta sono scesi a sette e la fiducia nell'ambiente bianco-nero cresce di giorno in giorno. La formazione di Max Allegri inoltre sa bene dell'importanza di questo match visto che subito dopo nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto allo Juventus Stadium con la Fiorentina. Lazio-Juve forse vale più dei semplici tre punti in palio. Bene, queste erano quindi le squadre impegnate in Serie A però dobbiamo fare un piccolo passo indietro Marco perché in questi giorni si è giocata anche la Team Cup e c'è stato ieri un risultato veramente sorpreso ovvero il Palermo in casa battuto dall'Alessandria per 3-2 una squadra di Lega Pro in casa di una squadra di Serie A ovviamente che vince ha gettato non poche polemiche su un ambiente comunque caldo anche perché l'esonero di Iachini è avvenuto pochi giorni fa ebbene l'ira del presidente Zamparini non si è fatta tendere è arrivata praticamente a partita in corso sul banco di diputati ovviamente i giocatori in primis ma ai microfoni nella mix zone a metterci la faccia come sempre per primo l'allenatore Ballardini che andiamo a sentire intanto l'atteggiamento è stato sbagliato dall'inizio noi abbiamo giocato tutta la partita in dieci più o meno abbiamo cercato anche nel secondo tempo di reagire ma non credo sia un fatto fisico assolutamente è un fatto mentale loro erano molto motivati e quando giochi così che non sei non sei motivato non hai quella fame che serve le qualità della squadra di forza di tecnica non c'entrano nulla c'entrano le motivazioni che hai e loro ci tenevano a fare bella figura noi abbiamo fatto brutta figura soprattutto nella prima parte della partita so benissimo perché poi la storia della Coppa Italia anche questa Coppa Italia insegna so benissimo che le squadre che hanno più più forza più qualità che giocano in categoria superiore se sottovalutano l'impegno vengono eliminate questo è giusto è giusto che sia così è giusto che si viva ma non è solamente il caso del Palermo ma ci sono tante altre squadre anche magari più attrezzate del Palermo che fanno brutta figura ma questo non è una giustificazione abbiamo ascoltato allora le dichiarazioni di Davide Ballardini al termine del match perso contro l'Alessandria per 3-2 ora dobbiamo anche sentire le parole dell'allenatore dei Grigi che in campionato nel suo campionato di Lega Pro sta andando molto bene ricordiamo che l'Alessandria è seconda insieme alla Ferrapi Salò nel girone A a quota 24 a meno 2 dal Cittadella e ora anche ha raggiunto un clamoroso quanto importante il risultato nella Coppa Nazionale ricordiamo che l'Alessandria nel prossimo turno sfiderà il Genoa restiamo però sulle parole di Angelo Ghevucci tecnico dell'Alessandria ascoltiamolo noi siamo venuti qua ho già detto i vostri colleghi per noi questa è una divagazione importante questa è una qualificazione che ha anche meritato l'allenatore che mi ha preceduto ha portato la squadra fin qua quindi c'è da fare complimenti a scienza al suo staff per noi è un palcoscenico importante spendiamo motivazioni abbiamo fatto anche una buona gara i ragazzi hanno i miei personalissimi complimenti soprattutto per la personalità hanno provato sempre a giocare va bene questa sera ma per noi già da domani mattina dovremo pensare perché il nostro campionato è un campionato molto difficile e dovremo cercare di preparare al meglio la partita di lunedì sera 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 io guardo soprattutto la mia squadra ho già per me dico che noi abbiamo abbiamo fatto bene poi la partita vive vive di episodi vive di andamenti vive di lettura i miei hanno letto bene siamo andati in vantaggio in supererà numerica abbiamo fatto discrete trame cercavamo di far girare la palla con velocità abbiamo creato altre opportunità non siamo stati cimici a chiuderla e poi è arrivato il Palermo il Palermo ha giocatore di grande qualità ha rimesso sempre in piedi la partita neanche sul 3 a 1 dopo un minuto abbiamo subito il 3 a 2 quindi poi alla fine dovevamo anche soffrire abbiamo sofferto e quindi penso sia stata una serata buona per noi però risottolineo è solo una serata che da domani mattina c'è da preparare qualcosa di importante per noi e restiamo a parlare di Coppa Italia perché c'è stato il debutto con vittoria per Luigi Del Neri sulla panchina dell'Ellas Verona Marco che è anche qui un'altra partita un altro caso in cui una squadra di Serie A affrontava una squadra di Lega Pro questa volta però l'esito è stato diverso perché l'Ellas Del Neri ha vinto per 1 a 0 grazie a Nornetta di Vinca al 91esimo il Verona è riuscito a passare ad approdare agli ottavi di finale un risultato importante non tanto per il passaggio del turno quanto per la fiducia che adesso proverà ad acquistare il Verona che ricordiamo in questo campionato in questa stagione non aveva praticamente anzi non ha mai vinto il campionato aveva vinto solamente in Coppa Italia adesso c'è stato il Bissin questo turno contro il Pavia ascoltiamo le parole del nuovo mister del Verona Luigi Del Neri che al termine del match vinto contro il Pavia ha parlato ascoltiamolo faticata perché è stata una faticacia perché abbiamo fuori tanti elementi e quindi i ricambi erano abbastanza scontati abbiamo cercato di mantenere le forze inalterate per domenica dando spazio a qualche giovane poi ci hanno ripagato con il gol e con le prestazioni anche direi di qualità perché sono ragazzi che non avevano mai giocato e hanno detto che abbiamo una primavera di tutto rispetto stasera siamo un po' contenti assaporiamo ogni tanto anche una vittoria che ci dà un po' di morale anche perché era molto tempo che il Verona non vinceva e quindi io dico che questo è un punto di partenza anche se è Copitalia però dà comunque la sensazione di poter rinarci più agevolmente l'Empoli è una squadra che è in salutissima nessuno ne ha da dire però io penso che abbiamo le qualità per fronteggiarla bene e abbiamo anche la possibilità di batterla perché nel calcio ed è il bello del calcio non c'è mai scritto una parola iniziale che sia scontrata poi alla fine abbiamo 10-12 giocatori che sono fermi e noi quindi rischiare un giocatore abbiamo già rischiato forse di più di quello che dobbiamo rischiare perché Luca Toni se c'era Pazzini giocava magari meno però direi che tutti hanno dato il loro porto ai ragazzi giovani perché hanno dato entusiasmo e volerli fare e ai ragazzi vecchi che hanno dato una mano quindi noi la Copitalia ha questa realtà per il Verona come concetto noi i giocatori dobbiamo recuperarli per le partite importanti che non iniziano domenica non finiscono neanche domenica il nostro campionato inizia fino a giugno noi dobbiamo lottare per la salvezza fino a giugno questo è il nostro obiettivo bene abbiamo anche sentito le parole di Luigi Del Neri questa sera alle ore 21 si chiude la settimana dedicata alla Coppa Italia con la sfida tra Sassuolo e Cagliari con i nero-verdi impegnati in un match non semplice perché affrontano la capolista della Serie B sì potrebbe essere diciamo un anticipo della Serie A dell'anno prossimo perché il Cagliari è veramente lanciato verso la conquista della promozione diretta una squadra quella di Rastelli che gioca veramente un bel calcio il miglior calcio della Serie B anche se è reduce dalla brutta sconfitta contro Brescia per 4-0 una sconfitta però segnata dal brutto infortunio a De Sena che ha tramortito psicologicamente la squadra Sarda questa sera appunto Di Francesco contro Rastelli e la squadra vincitrice affronterà l'Inter la prossima settimana a San Siro noi dobbiamo affrontare questa partita con massimo impegno sapendo che il Cagliari non è tanto una formazione di Serie B ma vi assicuro che è una formazione per potenzialità quasi di Serie A veramente noi vogliamo ben figurare è ovvio che darò la possibilità di giocare anche a chi magari nell'ultimo periodo ha giocato meno questo è certo però nello stesso tempo vogliamo passare il turno per poterci andare a giocare poi l'ennesimo passaggio a San Siro io non parlo dei singoli parlo di tutti quanti gli altri che hanno giocato meno Berardi ha giocato tanto valuterò domani se farlo giocare sì diciamo che hanno avuto anche vi faccio veramente tantissimi auguri a De Sena che ha avuto un bruttissimo infortunio che ha un po' condizionato la gara perché la stavo proprio guardando sabato devo dire che al di là della parentesi di Brescia stanno disputando un campionato sopra le righe con grandissime potenzialità con un allenatore molto bravo per di più anche un mio amico con cui ho giocato tantissimi anni insieme sono contento di rivederlo e di riaffrontarlo ovviamente mi auguro di batterlo la prima cosa che ho detto ai miei ragazzi però è un concetto inconscio dal punto di vista della preparazione della gara perché non deve essere così noi dobbiamo sempre prepararci a ogni partita nel migliore dei modi come in questo caso è accaduto magari in passato ma non di fare cattive prestazioni magari di non sviluppare quello che è il nostro modo di giocare in maniera propositiva e positiva come piace a me però sono convinto che faremo ugualmente una grande gara perché è una cosa su cui voglio battere e su cui noi dobbiamo migliorare tantissimo chi vince affronta l'Inter che dopo il KPO di Napoli prova a riprendere la marcia verso la vetta della Serie A sabato sera impegno casalingo contro il Genoa alle ore 20.45 ma c'è un mistero intorno a Mauro Icardi sì tanti giornali parlano anche di crisi infinita del bomber capitano nero-azzurro una crisi tra virgolette ovviamente perché noi ci basiamo ovviamente su quello che dice il campo una crisi che sembra più dettata dal nuovo metodo di giocare dell'Inter che non riesce a servire i palloni giusti al bomber argentino come lui stesso ha denunciato in più di un'occasione ma appunto questo rebus in casa Inter tiene banco anche in vista della prossima partita contro il Genoa che a questo punto diventa cruciale perché l'Inter non può permettere al Napoli e alla Fiorentina di passare avanti e allungare in testa Roberto Mancini ed il rebus legato a Maurito Icardi il capitano dell'Inter sostituito nel big match contro il Napoli a San Paolo non ha ancora ingranato la marcia in questa stagione ed è stato pure bacchettato dal suo tecnico a fine gara Mauro contro la difesa degli azzurri è stato un po' troppo fermo le parole del Mancio che quindi fanno capire come ora la punta argentina rischi seriamente il posto da titolare la davanti infatti Adem Ljajc è in un momento di forma assolutamente strepitosa Perisic è un motorino istancabile difficilmente i nero azzurri potranno rinunciare a lui mentre Jojo Jovetic ha fatto vedere che quando è in giornata può tranquillamente trascinare la squadra Icardi dovrà quindi recuperare al meglio lo smalto di qualche mese fa quando non solo era una macchina da gol impressionante e si laureò capocannoniere della scorsa serie A ma era anche un idolo indiscusso di quei tifosi che ora lo mettono in discussione sabato sera a San Siro nella sfida contro il Genoa di Gasperini Mancini dovrà quindi decidere se dar ancora fiducia all'argentino o se farlo accomodare in panchina anche se in ogni caso l'obiettivo della banda nero-azzurra era quello di riprendere il cammino scudetto dopo lo sfortunato stop a Napoli contro la formazione di Sarri Dobbiamo andare in Spagna dove una clamorosa disattenzione da parte della Madrid potrebbe costare caro alla società madrilena perché impegnata nella gara di Coppa del Re contro il Cadiz la formazione allenata da Rafa Benitez ha mandato in campo Sheriz un giocatore che era in realtà squalificato e ora rischia l'eliminazione che appunto di fatto potrebbe vanificare la vittoria per 3-1 ottenuta sul campo del Cadiz andiamo a vedere il servizio che appunto riassume la storia di questa clamorosa disattenzione Clamoroso quello che è successo a Cadiz durante la sfida tra la squadra locale e il Real Madrid per una partita di Coppa del Re il grossolano errore è stato commesso dalla società madrilena che nei sedicesimi di finale della Coppa Nazionale ha schierato un giocatore squalificato la svista accosterà carissimo alla squadra di Benitez che ha mandato in campo Sherzvi contro le Cadiz peccato che il giocatore fosse stato sanzionato con tre cartellini nella scorsa edizione qua dove stiva la maglia del Villareal e di conseguenza squalificato per una partita secondo l'articolo 76 del regolamento della Federazione spagnola il Real Madrid rischierebbe l'eliminazione diretta dalla Coppa del Re e restiamo in Spagna perché il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Bernardeschi il giovane attaccante della Fiorentina l'anno scorso scusate due anni fa al Crotone che ha entusiasmato in quell'annata e si è mostrato per quello che è un talento veramente puro potrebbe quindi ripercorrere in un certo senso le orme di Verratti che lo videro passare dal Pescara al PSG un Bernardeschi quindi che entusiasma e ottiene l'attenzione del Barcellona ovviamente la piazza Viola e tanti estimatori del calcio italiano cercano invece di fare un appello alla Fiorentina dicendo non lasciamo andare via Bernardeschi sempre a caccia di giovani talenti il Barcellona guarda anche in Italia per la sua campagna acquisti tra gli obiettivi dei Blaugrana c'è infatti Federico Bernardeschi attaccante classe 1994 della Fiorentina a confermarlo è il consulente del Barcellona Riedo Braida presente in tribuna durante la sfida di Europa League tra i Viola di Paolo Sosa e il Basilea nella quale il giovane dell'under 21 di Gigi Di Biagio ha realizzato una doppietta se il Barcellona è interessato a Bernardeschi diciamo di sì si è fatto sfuggire Braida che poi ha aggiunto ai microfoni di Radio Blu è un ottimo giocatore è bravo ma non posso dire altro è uno di quei ragazzi che hanno talento per fortuna ce ne sono ancora in Italia un talento che i catalani hanno ammirato da vicino nell'amichevole estiva del Franchi quando con una doppietta nei primi 12 minuti Bernardeschi regalò alla Fiorentina una prestigiosa vittoria sul Barcellona nella lista dei desideri di Lucia Enrique c'è anche un altro giocatore del nostro campionato si tratta di Sime Versalico del Sassuolo a lungo inseguito dal Napoli nella scorsa sessione di mercato ecco Real Madrid e Barcellona Marco che sono stati nominati anche come esempi di bel calcio esempi di top club europei anche dal presidente del Napoli De Laurentiis che non si risparmia anzi si sbottona possiamo dire così Marco sì paragonando anche il Napoli o comunque mettendo come riferimento le squadre spagnole per il Napoli che sta in questo momento entusiasmando e perché no un giorno potrebbe ripercorrere le orme di questi due club europei sì possiamo leggere dal sito di Sport Mediaset le dichiarazioni di De Laurentiis noi come Real Madrid e Barcellona ho raccolto il Napoli in tribunale dai fallimenti e ora siamo sugli stessi livelli delle due squadre spagnole certo bisogna vincere anche i trofei ora però sicuramente è il primo campionato quindi Napoli sì Napoli è migliorato tanto in questi anni e non si può negare a gennaio però scatta il calciomercato cambiamo argomento si iniziano a parlare si inizia a parlare delle possibili trattative e si guarda anche ai parametri zero diciamo le occasioni le occasioni d'oro che arrivano a basso costo abbiamo selezionato i 5 milioni parametri zero andiamo a riaccontare e riassumere con l'aiuto del servizio firmato Jacopo Mattei comprare bene e magari anche a parametro zero è sicuramente il sogno di ogni direttore sportivo ma non sempre i giocatori in scadenza di contratto per tutta una serie di motivi soddisfano le aspettative di club e tifosi nel corso della prossima estate molti di questi alcuni di carature internazionali si libereranno dagli attuali club e diventeranno obiettivi sensibili di mercato il numero uno della lista è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic l'attaccante al contratto in scadenza giugno e al momento è in attesa di offerte allettanti non più giovanissimo nel 2016 compierà la bellezza di 35 anni ma sempre pericolose in grado di caricarsi il peso di un'intera squadra sulle spalle il vero problema senza dubbio l'ingaggio tra i papabili c'è anche Zecchiel Lavezzi che in tempi non sospetti ha nuovamente espresso desiderio di tornare in Italia difficilmente rinnoverà con il Paris Saint Germain e a soli 30 anni può ancora dare una mano a tanti club di Serie A che finisca proprio alla Juventus il nome più interessante però quello probabilmente di Sofiane Feguli attaccante 25 anni in scadenza di contratto con il Valencia può giocare sia come esterno di sinistra che di destra ma il vero problema per accaparrarselo è la concorrenza spietata della Premier League Tottenham e Manchester United l'hanno messo nel mirino da tempo e difficilmente lo lasceranno scappare non più giovane ma sicuramente di esperienza tra i parametri zero di lusso della prossima sessione di mercato c'è anche Branislav Ivanovic attualmente alla corte di José Mourinho il difensore potrebbe lasciare il Chelsea con destinazione Napoli è pronta a cambiare casacca anche Gregory van der Wiel che con ogni probabilità non rinnoverà il proprio contratto con il Paris Saint Germain il terzino olandese piace tanto al tecnico dell'Inter Roberto Mancini che lo accoglierebbe alla pinetina già a gennaio insomma c'è soltanto l'imbarazzo della scelta e nonostante abbia smentito disaccordi con il tecnico Montella Antonio Cassano potrebbe lasciare anzitempo la Sampdoria e quindi trovare un'altra squadra già a gennaio sul talento barese avrebbe messo gli occhi Marco la squadra nero-azzurra una squadra nero-azzurra che non è l'Inter ma è l'Atalanta quindi una soluzione che potrebbe vedere Antonio Cassano cambiare ancora squadra il tifoso interista Antonio Cassano potrebbe tornare ad indossare una maglia a strisce nero-blu non però quella della Benamata bensì quella dell'Atalanta l'indiscrezione arriva dal quotidiano genovese il secolo XIX secondo il quale Fanta Antonio si sarebbe stancato di scaldare la panchina della Sampdoria il suo ex allenatore Walter Zenga dopo l'esonero ha avuto parole dolci nei suoi confronti sottolineando la serietà sempre mostrata in allenamento anche Vincenzo Montella si è detto sicuro che Cassano potrà essere utile alla causa blucerchiata ma le parole non sono ancora seguiti i fatti 26 minuti contro l'Udinese e nessuno contro il Milan nelle due partite con il nuovo tecnico il fantasista barese aspetterà le prossime quattro gare tre di campionato e una in Coppa Italia contro il Milan per capire se esiste un futuro alla Sampdoria in caso contrario farà le valigie e tra le squadre interessate c'è proprio l'Atalanta di Edy Reia che ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo e adesso dobbiamo parlare di Lulic diamo questa notizia relativa al giocatore della Lazio perché Dita schiacciata rischia di perdere una falange scusate per il bosniaco saranno fondamentali le prossime 72 ore gli è caduto praticamente un peso sulla mano destra e ha subito una frattura del medio ma preoccupa di più la neurale è già stato operato naturalmente i migliori auguri a Lulic giocatore della Lazio adesso dobbiamo andare a vedere il prossimo servizio che ci fa un elenco una classifica sui 10 sport che fanno bruciare più calorie dimagrire e fare sport binomio che quasi sempre risulta vincente anche se bisogna saper scegliere e mettere in pratica l'attività giusta per buttare giù quei chili di troppo la quantità di calorie bruciate dipende dal peso corporeo ciascuno sport però ha una metodologia diversa dall'altro al numero uno ci sono le arti marziali dalla kick box al kung fu l'allenamento delle discipline marziali resta uno dei più completi che integra allenamento aerobico e potenziamento muscolare in un'ora si possono bruciare circa 1300 calorie subito dietro c'è il calcio tanto amato dalla gente di tutto il mondo con i suoi metodi riesce a far bruciare circa 1000 calorie è sicuramente uno dei sistemi più diffusi ed efficaci per perdere peso e tenersi in forma quello della corsa tutto dipende sempre dall'intensità ma in un'ora di corsa si bruciano circa 800 calorie al quarto posto di questa speciale graduatoria c'è il salto con la corda in 60 minuti si stima che si possano bruciare circa 700 calorie non male free climbing o meglio conosciuta anche come arrampicata è uno sport un po' estremo ma porta comunque a consumare e perdere 700 calorie anche il tennis rientra nella classifica di questi 10 sport che aiutano a dimagrire si consumano un bel po' di calorie circa 600 stesso discorso per la scherma anche andare in bicicletta aiuta sappiate che bruciate circa 500 calorie all'ora ma con la giusta intensità si potrebbe arrivare anche a più di 800 aumentando naturalmente la pedalata al nono posto c'è il nuoto chiude in decima posizione lo sci non aiuta tanto ma 400 calorie potreste perderle prima di chiudere dobbiamo dare una notizia uscita nella giornata di oggi che riguarda il processo Oscar Pistorius è stato ribaltato il verdetto questa è una notizia battuta dalle agenzie questo oggi omicidio volontario rischia almeno 15 anni la corte d'appello del Sudafrica qualsiasi persona razionale avrebbe dovuto prevedere che sparando 4 colpi di pistola in una toilette avrebbe ucciso per la morte di Riva Stenkamp Oscar rischia almeno 15 anni di carcere quindi Marco una sentenza ribaltata che vede appunto l'atleta rischiare praticamente la galera per 15 anni sì è stata una giornata davvero un po' negativa sotto tanti punti di vista questo è un verdetto che è stato ribaltato vedremo come si concluderà la vicenda siamo davvero in chiusura vi ringraziamo per averci seguito anche quest'oggi un saluto da Marco Ester e da Cristian Provata buona serata Nuova S Sport rivenditore all'ingrosso dei articoli sportivi oltre 30 anni di esperienza al servizio delle società sportive nella fornitura di abbigliamento attrezzature ed accessori delle migliori marche studio grafico interno specializzato nella personalizzazione dei materiali Nuova S Sport lo store per veri sportivi Viagon in 56 Milano Silvani Fragrances & Cosmetics Il marchio italiano della cosmetica di lusso